buongiorno a tutti da caserta car tablet dedicato fiat 500 x 9 pollici android 9 4 gb di ram rom 64 gb con recupero funzioni auto adesso andiamo a gestire il volume come vedete poi possiamo cambiare le stazioni in memoria adesso abbiamo premuto le sorgenti stiamo andando su maps eseguiamo la posizione real time abbassiamo anche il volume manualmente abbiamo una doppia home questa è la prima veloce e poi passiamo direttamente alla seconda gestione musica tramite usb qui abbiamo tutte le playlist possiamo gestire le cartelle abbiamo il dsp e poi abbiamo tutte le funzioni android ma la cosa fondamentale è che nel cambiare la radio originale i contagiometri non lampeggiano e poi abbiamo tutto il setup auto qui in automatico abbiamo preso tutte le informazioni di viaggio come vedete tutto in automatico e poi abbiamo tutto il setup impostazioni adesso io piano piano ve lo scorro e guardate tutte le impostazioni usciamo poi abbiamo google possiamo gestirlo anche vocalmente viale palmiro togliatti 600 prodotto dedicato come vedete è perfetto benvenuti da audiolite qui facciamo la soglia panoramica a 360 gradi usciamo e andiamo avanti con la dimostrazione andiamo sul play store qui potete scaricare tutte le app che desiderate ricordiamo un 9 pollici e poi abbiamo youtube adesso vediamo un bel video in 4k sport 4k abbiamo recuperato la usb originale più un'altra usb nel porto oggetti grazie a te ciao possiamo dividere lo schermo in due parti magari mettiamo maps da una parte e youtube dall'altra e torniamo in visualizzazione singola abbiamo eseguito anche la retrocamera inserimento retrocamera e abbiamo la visione io ringrazio tutti i clienti che si stanno affidando a noi hanno fiducia vi auguro un buon fine settimana in questo caso ciao salerno